Benvenuti a The Fine Banking. Oggi proviamo ad allontanarci un po' dal tema del coronavirus. Non è facile, me ne rendo conto, siamo letteralmente bombardati sia dai mezzi di comunicazione, sia nel nostro caso dai comunicati stampa che arrivano in redazione e che riguardano in grandissima maggioranza proprio le misure per contrastare l'emergenza. Ed è proprio da alcuni di questi comunicati che abbiamo voluto prendere spunto per provare almeno a cambiare discorso e a riprendere quel tema che abbiamo accennato la scorsa settimana, cioè quello delle contaminazioni tra banche e fintech nell'ambito del credito alle imprese. Ci faremo aiutare da un report di Boston Consulting Group proprio su questo tema. Ci sentiamo dopo la sigla. The Fine Banking, fintech, pagamenti digitali, blockchain, criptovalute e la banca del futuro nel podcast ufficiale di Azienda Banca, a cura di Alberto Grisoni. Eccoci qua, bentornati a The Fine Banking. Se ci state seguendo in questi giorni su aziendabanca.it allora avrete visto quante iniziative di banche e fintech stanno riguardando il credito alle imprese e in particolare alle PMI. In generale diciamo il sostegno alla loro attività in questo momento di difficoltà per l'intero paese e a onor del vero per l'intera Unione Europea e per buona parte del mondo. Per l'Italia la situazione è particolarmente delicata, lo vediamo anche qui nelle notizie sulle trattative in corso a livello europeo. Un'ulteriore e importante conferma di quanto la partita sia dedicata viene da un'analisi di Mod Finance, la prima agenzia di rating fintech che trovate tra l'altro sul sito aziendabanca.it. Mod Finance ha fatto una elaborazione per mostrare come le PMI che oggi hanno un rating intermedio diciamo tra la tripla B e la B singola, sono quelle più a rischio in caso di downgrade. La crisi economica che è già di fatto cominciata con l'emergenza coronavirus impatterà su tutte le imprese ovviamente, ma quelle in questa fascia intermedia sono realtà aziendali che fino ad oggi si sono, diciamo, non voglio dire arrangiate ma mantenute in qualche modo in equilibrio, forse addirittura a galla. Aziende insomma che hanno avuto qualche difficoltà magari nel passato ma ce l'hanno sempre in qualche maniera fatta a rimanere in piedi. Parliamo però di quasi due terzi delle PMI italiane se prendiamo in considerazione questo rating intermedio PMI che rischiano di scivolare di una classe di merito trasformando anche il loro debito da solvibile a non performante due PMI su tre è una proporzione che rende bene l'idea del pericolo. Benvengano quindi tutte le iniziative che banca e fintech possono mettere in atto per dare una mano alle imprese. Negli ultimi sette giorni vi abbiamo parlato ad esempio della bella notizia della bella decisione della piattaforma di lending October che ha sospeso il rimborso della quota capitale delle rate per tre mesi. Attenzione la decisione non l'ha presa October, l'ha presa la community di prestatori di denaro che comprende sia soggetti privati sia investitori istituzionali. Molte fintech fanno sapere con comunicati e progetti che anche in questi giorni continuano normalmente a operare e a fare il loro mestiere grazie a un modello di business già basato su processi completamente digitali. E questo spinge ovviamente a riflettere, l'abbiamo già detto negli episodi delle scorse settimane, spinge a riflettere su come un modello paperless e completamente digitale consenta oggi di continuare a lavorare normalmente. Prendiamo quindi spunto da un lavoro di ricerca di Boston Consulting Group. Il titolo in inglese è The Future of SME Lending What Banks Can Learn From Fintech Cioè il futuro del credito alle PMI, che cosa le banche possono imparare dal fintech. Useremo un po' gli spunti di Boston Consulting per fare un elenco di punti, sono cinque, su come le banche potrebbero poi trasformare il modo in cui servono le PMI grazie alle lezioni apprese anche durante questa emergenza. Ovviamente ci metteremo anche un po' del nostro rispetto a quanto detto da Boston Consulting perché il fintech luccica, ma non necessariamente è sempre oro e quindi qualche rifettuccio può avercelo. Dunque nella sua ricerca Boston Consulting Group individua, lo dicevamo prima, cinque lezioni. La prima è assolutamente evidente in questi giorni e riguarda la necessità di ridurre la complessità. La value proposition deve essere semplice e mirata su segmenti di clientela accuratamente selezionati. Siamo ormai abituati a fintech con un'offerta molto specializzata e verticale. Anzi direi proprio che la frammentazione è una delle caratteristiche proprie delle fintech. In questo momento per un'impresa in difficoltà una proposta chiara e semplice, ma anche mirata, molto specifica, è fondamentale e molto utile. Pensiamo ad esempio alla chiarezza per quanto riguarda le condizioni e le modalità di richiesta di finanziamento, ma anche le finalità per cui questo finanziamento può essere impiegato. Insomma la chiarezza in questo momento serve perché le decisioni vanno prese in tempi rapidi in tempi rapidi e questo ci porta alla seconda lezione che, secondo Boston Consulting, le banche dovrebbero imparare dal fintech nell'ambito del credito alle imprese, cioè ridurre la manualità al minimo. L'epidemia del covid-19, lo dicevamo poco fa, sta mettendo in gravissima difficoltà, se non in ginocchio, le attività economiche non essenziali, ma rende anche molto difficile lavorare in quelle essenziali. Perché? Beh, banalmente perché vanno mantenute misure e distanze di sicurezza, ma il nostro modo di lavorare, quello a cui siamo stati abituati da sempre, fino a qualche settimana fa, ci vede spesso gomito a gomito con i colleghi. Sono settimane che nelle banche tradizionali si pone il problema di come organizzare il lavoro in filiale e ci è voluto un accordo tra l'ABI e i sindacati, insomma, per fare passare una linea tutto sommato di buonsenso, cioè quella di permettere l'accesso ai clienti solo su prenotazione telefonica, dopo aver cercato di risolvere, insomma, il loro problema, le loro questioni, direttamente al telefono. Ma non c'è solo la filiale, ci sono anche uffici territoriali e centrali in cui eventuali processi manuali sono oggi messi in difficoltà e sicuramente rallentati. Io sono in azienda banca da quasi 13 anni e una delle espressioni che ho scritto e pronunciato di più in questi anni è digitalizzazione dei processi. Bene, questo mantra in questa emergenza si dimostra assolutamente valido, perché chi ha digitalizzato in passato oggi riesce davvero a operare, mentre invece chi è rimasto indietro sta facendo molto, molto fatica. E pensiamo poi a come delle soluzioni integrate e digitali, dei processi integrati e digitali possano anche ridurre i tempi di approvazione delle domande in modo assolutamente drastico. Passiamo alla terza lezione che riguarda lo scetticismo sui dati che, secondo Boston Consulting Group, ancora c'è in diverse banche. Qui la lezione del fintech è meno legata all'emergenza e più valida anche in tempi, diciamo, di normalità. In generale diciamo che un uso innovativo dei dati migliora sicuramente il processo decisionale, va bene, e qui non c'è niente di particolarmente nuovo. Però, dice Boston Consulting, anche migliorando l'accuratezza dei modelli di valutazione del rischio. E su questo secondo aspetto della valutazione del rischio sicuramente vedremo un'attenzione enorme nei prossimi mesi. Quarta lezione, in qualche modo collegata alla precedente, e riguarda la possibilità di sfruttare al massimo le nuove tecnologie per ricavare insight, creditizi. Esco dal seminato di quanto previsto da Boston Consulting Group e vi propongo io un esempio che, secondo me, è molto valido. Pensiamo a come tutti i dati dell'internet delle cose applicati a un impianto produttivo potrebbero aiutarci, aiutare noi, aiutare la banca, a capire come procede giorno dopo giorno l'attività di una data azienda e a valutarne l'andamento. È evidente che la tecnologia può liberare una quantità enorme di dati, tutta da esplorare, e che questi dati possono aiutare moltissimo, banche, compagnie assicurative, fintech e quant'altro, ad avere un'idea molto più chiara di quello che accade all'interno delle aziende. La quinta lezione è, in qualche modo, storica, direi, riguarda l'infrastruttura IT, che nel caso delle fintech si basa su moduli, API e cloud. Qui mi permetterei di dire che le banche conoscono benissimo la situazione e non a caso lavorano da anni su questi temi con il limite ovvio dei sistemi legacy che non possono essere staccati da un giorno all'altro come se nulla fosse. Rispetto a qualche anno fa, va detto, la tecnologia permette di usare molto di più e offre alternative alla radicale sostituzione di tutti i sistemi. Non a caso cloud computing oramai anche in banca non è più una parolaccia e API è diventato sinonimo di flessibilità. Tra l'altro pubblicheremo un'intervista proprio su questo tema con IBM. Mi scuso se doveste sentire in questo momento una ambulanza in sottofondo. Io abito a Milano nei pressi di un ospedale abbastanza famoso. Oramai mi sono abituato, insomma, a una sirena di ambulanza purtroppo di 15-20 minuti. Quindi probabilmente ne sentirete almeno un paio durante questa registrazione. Dalle cinque lezioni di Boston Consulting Group, insomma, emerge come fondamentale quella capacità di dare risposte agili, innovative e rapide alle esigenze delle PMI, capacità di cui parlavamo anche negli scorsi episodi di Defined Banking. Dobbiamo poi aggiungerci un elemento più di marketing, se vogliamo, che è quello della chiarezza del messaggio, delle condizioni, dell'offerta. Insomma, un elemento assolutamente culturale che non ha niente a che fare con i vincoli tecnologici dei player preesistenti, ma proprio su un orientamento strategico che sia in grado di mettere insieme la compliance, la normativa sulle informative e il modo in cui queste informazioni vengono presentate al cliente. Non tutte le banche, questo va precisato, devono imparare tutte queste lezioni. In queste settimane abbiamo visto casi molto interessanti di banche che hanno reso disponibili ai loro clienti imprese dei finanziamenti preapprovati in base al loro profilo, in base a quello che già normalmente accade nel credito al consumo. Per esempio, il meccanismo della preapprovazione, inutile dirlo, accelera moltissimo i tempi di risposta della banca e facilita non poco la vita al cliente. Torniamo in ambito fintech e alla sospensione delle rate per tre mesi votata dai prestatori di October. Pensate che in questo caso la sospensione delle rate è automatica, non c'è nessuna richiesta da inoltrare per l'impresa. Questo per l'impresa è un vantaggio enorme. Certo, la mole dei finanziamenti in essere di October non è pari a quella di una banca e sicuramente anche i costi da sostenere sono decisamente diversi, ma l'automatismo in una situazione di emergenza è qualcosa che il cliente sicuramente non si dimenticherà. Vorrei poi aggiungere una mia considerazione che non ha niente a che fare con ciò che scrive Boston Consulting Group. In questo momento ci sono ambiti specifici del banking che sono sostanzialmente fermi. Penso ad esempio al credito al consumo che sta soffrendo terribilmente del fatto che siano fermi mercati fondamentali come le automobili e gli elettrodomestici, le fintech hanno tra le loro caratteristiche, lo abbiamo detto un paio di volte in questo episodio, il fatto di essere altamente specializzate. Questa concentrazione su nicchie specifiche, soprattutto nelle prime fasi di vita di una start-up, in caso di crisi o di situazioni di stress può rivelarsi una debolezza, mentre la capacità delle realtà più grandi di differenziare il business può consentire una maggiore resilienza, soprattutto con una crisi che si prolunga per diversi mesi. Quella che stiamo vivendo è una situazione eccezionale, certo, ma questa mi sembra un'utile lezione al contrario. Dalle banche verso il fintech, puntare tutto su un unico business può andare bene nelle prime fasi, poi quando si diventa grandi bisogna iniziare a ragionare diversamente e avere un piano B. Dalla prossima settimana dovremo tornare ad avere degli ospiti in collegamento Skype. Non so se sia il segno che le cose incominciano a tornare alla normalità o che banalmente ci stiamo abituando a queste condizioni straordinarie di lavoro e di vita. Io spero di riuscire in fase di editing a rimuovere tutti i colpi di tosse e le ambulanze di questa registrazione. Intanto con The Fine Banking l'appuntamento è per giovedì prossimo.